Ben ritrovati alle news di TG in rosa. Apriamo con il segno più per Porsche con un totale di 190.000 consegne, più 27% da gennaio ad oggi. La casa di Stuttgart ha raggiunto un nuovo record, superato il risultato ottenuto nel 2014 con due mesi di anticipo sulla fine dell'anno. A ottobre Porsche ha venduto 18.699 vetture in tutto il mondo, più 18% nonostante le difficoltà economico-finanziarie. In Cina ha registrato un incremento del 44% con 4.950 veicoli. Negli USA ha consegnato 4.070 vetture, più 11%, stessa crescita sul mercato europeo dove è matricolato 6.691 unità. A trenare le vendite annuali, il SUV compatto Macan con quasi 70.000 pezzi, la Cayenne con 60.000 esemplari ha totalizzato un più 12% e la Porsche 911 un più 7% con 27.281 unità. Ed ora parliamo delle donne al comando e delle donne al comando proprio nel settore dell'automotive. Dopo la crisi e la conseguente riduzione delle posizioni di leadership per le donne, il settore dell'automotive torna ad offrire molte opportunità per il gentil sesso. Lo dimostra la classifica delle 100 donne più influenti nel mondo dell'auto, stilata da Automotive News. Nel 2000 compilare la prima lista fu una cosa non facile perché poche erano le donne in posizione di comando e quest'anno il problema è stato invece quello di scegliere tra centinaia di dirigenti di sesso femminile. Le candidate sono state valutate tenendo conto di posizioni ricoperte, delle decisioni importanti che hanno dovuto prendere e sono state favorite coloro che si occupano di sviluppo dei prodotti. Nella lista di quest'anno sono presenti sei amministratori delegati, il doppio rispetto all'ultima indagine effettuata nel 2010 e tra proprietari e dirigenti il numero è passato da 63 a ben 73 e speriamo che questo numero cresca cresca ancora. Adesso parliamo invece di Euro on Cap che premia la sicurezza. Tre dei quattro veicoli sottoposti questo mese, periodici crash test Euro on Cap, il progetto internazionale di cui l'automobile Club d'Italia e partner hanno raggiunto l'eccellenza delle 5 stelle Euro on Cap. A conquistare il massimo dei voti l'ultima versione dell'Audi A4 è la doppietta Honda, la compatta HR-V e la Honda Jazz. Riguardo la sicurezza passiva degli adulti, Honda Jazz ha ottenuto il massimo dei voti, 93 punti, la migliore alla voce di sicurezza attiva e risultate invece l'Audi A4 con 75 punti. Quattro stelle per la piccola monovolume Volkswagen Caddy con sistema di frenatura autonoma urbano ed extraurbano forniti come optional. E per oggi è tutto, vi aspetto come sempre alla prossima edizione di TG Rosa e seguite i programmi di Motori Rosa. Grazie a tutti, arrivederci.